ciao a tutti e benvenuti ad un'altra keep or sell a parte di mages of lotus anche oggi prendiamo tre carte che ci avete chiesto e appunto parliamo se tenerle o venderle ma prima di cominciare vi invito a lasciare mi piace e commentare iscrivervi e vi ricordo che stiamo appunto portando più novità soprattutto per gli abbonati cioè che appunto tramite l'abbonamento quello su youtube da 0.99 sarà come vantaggio la priorità nelle risposte per quanto riguarda keep or sell ovviamente ci saranno altri vantaggi che porteremo nel futuro quindi state attenti continuate a monitorare le nostre novità quindi i nostri post e le nostre sezioni dedicate ai abbonamenti dentro questo cominciamo con la prima che è quella di di albi albi ci chiede se keep or sell il cyclonic reef di double master il cyclonic reef di double master io direi che non mi sono preparato le carte a sto giro quindi direi scegliamo il falchetto che sto giro il falchetto vuol dire vendere perché ho deciso che il falchetto lui vede e prevede che si vende e la porta al cliente è anche più affidabile delle poste quelle italiane dai non sta facendo così schifo soprattutto gli ultimi anni sono migliorate tanto una parte le cavolate perché vendere questa carta allora il cyclonic rift penso che non abbia punti di prezzo più alti si parla comunque una carta che sta sulla quarantina chi la vende sotto la 40 perché vuole sbarazzarsene come questi o sono lingue infime come il francese che per quanto sia una lingua che è bellissima per carità però a magic non vale tanto comunque a parte chi se ne vuole sbarazzare il prezzo medio sul 40 è sempre rimasto stabile comunque 44 poi calato poi salito comunque ha sempre fatto la linea del battito cardiaco non penso che possa salire oltre perché non può scoppiare cioè non o domani viene creato un mazzo di modern che gioca 4 per di sta carta per qualche arcano motivo o comunque questo ma che cosa poco probabile o questa carta rimane comunque stabile nel tempo è molto richiesta perché la staple di commander si gioca forte però il prezzo è quello anzi perché dico sell perché attendendo si rischia che riceva un'altra ristampa può ricevere una ristampa prestigiosa e quindi questa qua ti cala di conseguenza perché uno può a questo punto più scelta chi vuole pimparsi il mazzo può scegliere di prendere questa o prendere l'altra in base ai propri gusti comunque il mercato capisci si si divide e si copre di più la domanda quindi sinceramente la vendere adesso questa è una quarantina è un buon è una buona monetizzazione e non prevedo salga più di tanto e quindi poi anche capitasse il patatrac che prende 10 euro comunque non è che ci hai perso tanto anzi magari nel tempo che aspetti che salga 10 euro non vale neanche la pena rispetto al tempo investito appunto quindi sell come dice il nostro caro falchetto delle nevi sell la seconda carta di cui parliamo invece è di luigi ed è fable of the mirror breaker e fable è un keep notate che il prezzo continua a salire sinceramente io aspetterei perché non si sono ancora giocati tornei importantissimi pioneer questa è una carta che comunque sta continuando a salire principalmente grazie al pioneer e quindi appena c'è un bel torneo grosso di pioneer questa carta probabilmente ne sarà una dei protagonisti e quindi può solo aumentare di prezzo perché al punto la gente è convinta la vuole comprare vuole giocare i mazzi che la contengono e molti mazzi la stanno giocando e quindi potrebbe aumentare ancora più di prezzo e magari raggiungere i vertici di 15 di minimo quindi vuol dire già un più 5 che su una canna rara direi che è un buon delta senza considerare che magari appunto 15 di minimo quindi vuol dire che magari va anche un pelo più alta dopo perché comunque considerate che passa anche un po di tempo dal set quindi diventa anche più difficile reperirla quindi sinceramente per me è un keep ora come ora perché ha ancora potenzialità di crescita secondo me poi terza carta che è quella di stefano l'elder gargaroff foil presumo intendessi la versione foil di busta ma comunque qualsiasi versione tu abbia per me è quasi uguale la risposta io do per scontato che sia quella foil di busta allora per me il ledger gargaroff è un sell quindi di nuovo il falchetto che lo spedisce al nostro cliente perché perché comunque la sua potenzialità l'ha raggiunta è una carta a mode bainslayer è un drop a 5 che fa tanto value si il bainslayer era un beater eccellente questo è un buon beater in più fa value diciamo che diciamo che lo fai in maniera un po' lenta perché comunque tu usi di solo cioè scegli solo un effetto per volta perché comunque tipo quando attacca blocca fai uno di tre e non li fai tutti quanti ovviamente se no sarebbe troppo forte però è il classico drop a 5 di magic che entra e non fa niente quindi oramai il gioco si è evoluto tantissimo da quando è riuscito la prima volta il bainslayer che appunto una volta il bainslayer quando è riuscito costava 40 euro mio dio tappo 5 volare lifelink tutto mo invece è una carta del cavolo perché è anche un po' l'elder gargaroff che però di vantaggio al colore che quindi lo può accelerare farlo prima rispetto al bianco che poveretto è sfigato però sto divagando quello che intendo dire è che il classico drop a 5 che comunque quando entra non fa subito value non facendo subito value rischia di beccarsi subito la risposta del nostro avversario e quindi non fare niente aver sprecato tantissimo mana e tempo per farlo senza considerare che anche magari senza che l'altro faccia la risposta è comunque una carta a prescindere lenta quindi magari l'altro è un mazzo comunque veloce che può tranquillamente ignorarlo quindi allora diciamo che magico ormai per queste carte qua si è diviso in due modi e in due modi se la beccano comunque sempre in quel posto o è un mazzo che interagisce e quindi te lo uccide e non fa value perché entra e muore o l'altro è un mazzo che se ne frega perché scomba o è velocissimo e quindi dice vabbè tu hai fatto sto coso io posso permettermi di ignorarlo e quindi ti passo sopra a te ignorando il gargaroff quindi per me è una carta che la sua potenzialità massima l'ha raggiunta probabilmente era da vendere prima quando c'era molto hype su questa carta perché avevo visto che molti la giocavano addirittura in modern in energy ponza che dici ma perché in energy ponza sì ok rampi di mana però con 5 mana puoi fare tantissime cose più interessanti in modern puoi spaccare ancora la terra e fare planeswalk e fare cose anziché fare sto coso che per carità cioè non è che è una carta debole ripeto però magic si è evoluto in un modo che queste carte qua difficilmente siano forti cioè alla fine questa qua l'unice match up in cui lo vedo davvero devastante quando l'altro gioca un mazzo con tante creature a terra piccoline che tu gli metti l'elder gargaroff e lui non è più in grado di passare però a questo punto non lo rende più una carta da main deck ma una carta da side quindi mi ripeto questa carta secondo me ha raggiunto la sua potenzialità massima rischia solo la ristampa perché comunque è una carta che hanno messo nei set base quindi fate occhio fate occhio vuol dire che nei prossimi set base che escono ce lo possono riproporre come è stato per il bandslayer quindi ce lo possono tranquillamente riproporre nel giro di breve il prezzo cala ancora di più se non dimezzare la richiesta magari è minima perché già è minima adesso e quindi io direi un chiaro set adesso prima che sia troppo tardi poi non ho la sfera di cristallo magari domani scopriamo che c'è il mazzo che vuole se tu casti elder gargaroff hai vinto però voglio dire insomma lo vedo poco probabile di nuovo detto questo spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo come al solito e ciao ciao fate i bravi grazie a tutti grazie a tutti